Prima di iniziare, vi ricordiamo di iscrivervi, lasciare un like e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Nelle recenti dichiarazioni, la famosa conduttrice Mara Venier ha condiviso il suo amore per il marito e la dedizione alla famiglia come priorità principali nella sua vita. Questo dimostra quanto tenga alla sua sfera personale. Ha anche annunciato che tutti i suoi beni sono destinati ai figli e ai nipoti, sottolineando il suo impegno per garantire un futuro sicuro alla famiglia. Mara Venier ha attribuito la sua longevità e popolarità in televisione alla sua capacità di ascolto e curiosità, che si riflettono nelle sue interviste e nella connessione che crea con gli ospiti. Nonostante alcune sfide fisiche, come un incidente con una matita nell'occhio, Mara Venier ha dichiarato con determinazione che continuerà a condurre il suo programma. Questo non è il primo ostacolo fisico che ha affrontato nella sua vita, ma ha sempre mantenuto la sua determinazione e ha continuato a lavorare con passione. In conclusione, Mara Venier è un esempio di dedizione alla famiglia e di perseveranza nella carriera televisiva. La sua capacità di ascolto e la sua autenticità continuano a conquistare il pubblico italiano, mentre la sua forza nell'affrontare le sfide personali la rende un modello di resilienza. Vi invitiamo a lasciare un commento e a seguirci per rimanere aggiornati. Grazie per averci seguito, a presto con nuove notizie.